Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qui per un nuovo unboxing di... come si chiamano? di Blind Bag Zomlings serie 3 Zomlings in the Town io li adoro come sapete qui ne ho tre tre bustine che adesso andiamo ad aprire insieme allora non mi ricordo dove caspita ho messo i due cosini per vedere i Zomlings che ci uscivano mi sono dimenticata a prenderlo prima perdonatemi credo sia questo no questo è della serie vecchia ok non mi ricordo dove li ho messi perdonatemi ok andiamo ad aprire e vediamo dentro se troviamo il bigliettino con il 3 di 3 quello che forse mi mancava era questo oh mi piace che sono belli quelli quelli limited edition ultra rare sono bellissimi sono i miei preferiti e andiamo a vedere chi c'è qui no qui questo non c'è ma poi andremo a vedere chi è è troppo carino guardate che bello sembra una specie di guardate che morbido ma sono tutti morbidini vedete credo sia una specie di come si dice contadino qui non c'è adesso andiamo ad aprire gli altri magari trovo il coseno dove si vede lui ecco qui vediamo questo è il 2 di 3 perfetto eccolo qui infatti lui è Raki ecco qui metti a fuoco lui è Raki ma non metto a fuoco ecco ecco perfetto adesso si vede bene ed è troppo bellino bello 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 ed è un freaky farm ecco vedete qui ci sono gli altri e adesso io andrò a unire questi due così poi faccio un coso unico e li vediamo insieme vediamo che ho trovato adesso qui che bello è tutto giallo guardate che bello vediamo se è qui qui non c'è o qui non lo vedo nemmeno sì eccolo qui invece lui è type guardate che bello è il 275 ed è troppo carino bellissimo 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 ah guardate ciao la mano è dietro con una chiave ecco sì adesso si vede è bellissimo sono fatti benissimo io li adoro per questo questi sono i due togliamo questo e apriamo l'ultimo li metto più vicini magari così apriamo l'ultimo magari trovassi l'uno di di tre ecco infatti il tre di tre di nuovo vedete e di nuovo il tre di tre niente da fare questo lo buttiamo vediamo che abbiamo trovato oh ma questo è stupendo ma cos'è guardate che forma strana che ha oddio che bello i dentini piccolissimi belli vediamo chi c'è c'è qui speriamoli eccolo qui infatti si chiama Fonto metti a fuoco aspettate un attimo che metto a fuoco manualmente ecco qui si chiama Fonto ed è troppo bellino ecco lo metto così di profilo così vedete che qui ha una specie di gelotto diciamo sul nasino dietro è fatto così non capisco assolutamente come è messo comunque è bellissimo guardate la casualità ne ho trovati due arancioni due arancioni e uno giallo sono troppo carini e niente e questi sono gli zomlings che ho trovato oggi in questo unboxing spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile comprate gli zomlings perché sono bellissimi io vi ricordo sempre che una blind come questa qui costa 70 centesimi ci sono più di 100 zomlings 100 zomlings ed è c'è anche il sito www.zomlings.com e niente spero che vi sia piaciuto questo video e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao